Un'amministrazione comunale, quella di Leporano, la nuova, la neo insediata amministrazione che presenta volti nuovi all'insegna del rinnovamento. E in questa ottica Serena Tardiota. È la prima seduta, devo ancora memorizzare bene le deleghe che sono state conferite. E allora, Serena Tardiota, come dire, si presenti da sola quanto a deleghe assessorini? Buonasera a tutti. Le mie deleghe ufficializzate oggi sono sport, politiche giovanili, tempo libero, impiantistica sportiva, corsi di formazione professionale. Soprattutto per i giovani, ma soprattutto per la nostra comunità, perché io amo il mio territorio e amo la mia terra.